Perché a noi non piace leggere? In questo video vi consiglierò alcuni libri molto molto utili per imparare e migliorare l'inglese Ho fatto una selezione di quelli che abbiamo qui Sono libri che ho incontrato nel corso della mia vita in modi diversi Ma che mi hanno sempre ispirato Quindi non vedo l'ora di condividere con voi questi libri Iniziamo! Prima di iniziare ci tengo a fare una premessa Quando si studia una nuova lingua è importante iniziare da un libro, per esempio, che sia giusto per il nostro livello Quindi non iniziamo con, non so, orgoglio e pregiudizio Quello che io consiglio sempre di fare è di iniziare da libri per bambini Non bisogna vergognarsi di questa cosa Anzi, i libri per bambini sono super fun E oggi voglio parlarti di alcuni dei più belli secondo me Un grande classico nei paesi anglofoni è la serie dei libri di Dr. Seuss Questi libri sono incredibili, sono utilissimi perché hanno tantissime rime e tantissimi giochi di parole Ricchi di vocabolario e soprattutto con tantissime immagini che ci possono aiutare a capirli meglio Kids love them I bambini li adorano La cosa che assolutamente devi sapere è che questi libri sono nati proprio con lo scopo di aiutare i bambini di tutto il mondo a alfabetizzarsi Infatti è bellissimo perché dice I can read it all by myself Cioè un bambino alla fine riesce a leggerlo da solo Senza l'aiuto di un adulto perché appunto grazie all'immagine e tutte queste parole simili riescono a leggerlo Il secondo libro per bambini che non può mancare nella vostra libreria è The very hungry caterpillar Anche questo è un grande classico, si vede in quasi tutte le tv series, nei film eccetera E appunto è ricchissimo di vocabolario Soprattutto relativo al cibo perché qui stiamo parlando di un bruco veramente affamato E niente, io assolutamente vi consiglio di averlo, di leggerlo, rileggerlo e guardarlo È bellissimo Sempre in tema cibo abbiamo Sam Sandwich È un libro che fa impazzire bambini e adulti È un pop-up book, as you can see E anche in questo caso è ricco di rime Ok? E alla fine devi essere tu in realtà a completare il libro Basandoti su quello che trovi dentro il libro Bellissimo Mamma mia Non è solo bello ma è anche proprio originale perché è un sandwich E alla fine si chiude tutto con tutti gli ingredienti Cioè, una bomba, bellissimo Per lavorare invece sulla pronuncia di lettere e suoni specifici Vi consiglio questa collana Letterland Storybooks In questo caso abbiamo tutte le parole con la W Con la W E quindi anche nella storia ci sono tantissime parole con la W Che iniziano con la W In questo caso è la storia di una strega Di una witch Passiamo ora ad altri tipi di libri Sicuramente ci tenevo a parlarvi di questo tipo di libri Sono delle poesie Il primo di questa autrice si chiama Milk and Honey È un best seller A me è piaciuto di più questo però The sun and her flowers Si tratta di poems Ma brevissimi Veramente Pochissime righe Ma molto toccanti In cui Vedete io ho fatto un sacco di pieghe Perché in tutti quelli in cui Tutti quei poems in cui mi Mi ritrovavo Volevo Tutti Si può far vedere che sono tutti Tipo ogni pagina Ok Si tratta di un libro E appunto il libro di questa autrice Di libri estremamente romantici Di amori sofferti Che tutti abbiamo avuto Quindi se siete nel mood Ve lo consiglio By the way Prima di continuare con questo video Voglio ricordarti di provare il test inglese Norma's Teaching Niente paura Non è un esame È un quiz divertente Per capire quale di questi Quattro problemi Blocca il tuo inglese Una volta capito questo Imparerai molto più velocemente E riceverai un consiglio Personalizzato Per superare l'ostacolo Vai su www.normasteaching.com Fai il test E raccontami com'è andata Un'altra collana di libri specifici Per imparare l'inglese Che vi consiglio assolutamente È la collana English for everyone Esistono diversi libri Con diversi scopi C'è proprio il corso base Il corso intermedio Il corso avanzato Questo però L'ho comprato È uno dei miei preferiti in assoluto È un libro Con tutti i modi di dire Quindi è bellissimissimo Perché ha anche dei disegnetti Che fanno un po' capire il modo di dire Con la traduzione E io lo consiglio sempre Questi libri sono veramente Di valore Molto belli And last but not least I miei due libri Visto come lo chiedete sempre Che differenza c'è Ve lo spiego in breve Normal English È un libro Che vuole praticamente Motivarvi E aiutare le persone A sbloccarsi con l'inglese Perché magari hanno avuto Non so esperienze traumatiche Principalmente E quello che si va a fare Si va a costruire La nostra casa con l'inglese È ricco di esercizi Si costruiscono delle stanze Regole grammaticali Quiz Consigli di sopravvivenza Giochi Lezioni audio Canzoni Disegni e sfide È un libro da fare Non esiste la versione digitale Perché appunto Tante cose vanno tagliate Va usato Eccetera È lo scopo principale Di portarvi fuori Dalla vostra zona di comfort E farvi fare cose che Non vorreste fare Perché imparare una lingua è questo Cioè uscire dalla propria Comodità Dalla propria zona di comfort E lanciarsi in qualcosa Che ci fa comunque sentire In imbarazzo Soprattutto all'inizio Quindi ve lo consiglio Se volete un po' sbloccarvi Il mio secondo libro Invece è Two Minute English È un libro che vuole Che ha lo scopo Di rendervi costanti Nello studio Infatti è diviso in giorni 365 giorni Ogni pagina Si fa in due minuti Anche in questo caso È un libro da fare E non da leggere Ce ne sono già tanti Di libri da leggere Noi volevamo creare Qualcosa di diverso Ci sono veramente Tantissimi giochi Modi di dire Sfide Tanti esercizi di ascolto Per migliorare la pronuncia Ed è un libro veramente Per me Ovviamente Meraviglioso Consigliatissimo Ora però sono veramente curiosa Di sapere quale libro Ha aiutato voi A migliorare il vostro inglese A imparare qualcosa di nuovo Non vedo l'ora di leggere Questi titoli Nei commenti Mi raccomando Cerchiamo di aiutarci In questa community E condividere le nostre esperienze Spero che questo video Vi sia piaciuto Thank you so much for watching And I'll see you in the next video Bye! Bye!